Ciao amici, ok siamo nuovamente sul Tearmaker per la seconda puntata Oggi ci concentriamo su canzoni e band rock, principalmente rock normale quindi Li classificheremo sempre da S ad F, anzi l'altra volta forse eravamo da A, ma chi se ne frega Vi ricordo che qua sotto ci sono delle playlist con alcune canzoni consigliate, tra cui alcune di quelli che vedremo oggi E li classifichiamo in base A, quanto mi piacciono? E quanto sono stati importanti per la storia della musica Allora, Alman Brother Band Ma gli Alman Brother mi sembrano proprio il tipico gruppo che va nel mezzo, cioè esistono, sono delle persone Hanno fatto certamente la sigla di Top Gear però Che è Jessica Quindi avendo fatto la sigla di Top Gear si meritano una A, però altrimenti ecco da noi poi forse non erano particolarmente famosi Gli ACDC sapete già perché sono qui Alice Cooper Allora, Alice Cooper ha fatto questo glam rock metal se volete Anni 80, un po' shock, quindi con vestiti e atteggiamenti un po' particolari Di canzoni di Alice Cooper ne conosco probabilmente due Mi fa un po' ridere E sono quelle cose degli anni 80 che fanno tendenzialmente ridere Aerosmith Allora, gli Aerosmith, dobbiamo andare veloci se non finiamo più Gli Aerosmith sono invece Una band incredibile perché Sono riusciti a creare una hit Praticamente in quattro decenni differenti Ok, avevano sempre qualcosa da poter suonare e cantare ogni giorno della loro vita E renderlo una hit Cioè, davvero anche I don't wanna miss a thing dei anni 2000 È incredibile che siano riusciti a portare al numero 1 Questi non so chi siano Non riesco neanche a leggere Ok Credo che questi sono proprio i primi che andrebbero messi per sempre Beatles ovviamente Che cosa gli volete dire dei Beatles? Se non che Sono stati indispensabili per la storia della musica Uno Mi piace un sacco la loro capacità compositiva E la capacità dei singoli E la storia singola che hanno avuto ognuno dei loro componenti Tolto un po' Ringo Che nel senso che sì, i suoi album da singolo Lasciano poco tempo che trovano Ma anche quelli di John Lennon sinceramente non mi sono mai piaciuti Mentre gli altri due sono degli ottimi musicisti anche a sé stanti Hanno fatto la storia, non c'è niente da dire Billy Joel Non mi piace Aveva avuto certamente, ha Certamente problemi di alcol Un po' ricorda Paul McCartney Non so se anche voi ricorda Paul McCartney Però Blue Oyster Cult Allora Hanno fatto due canzoni che mi piacciono molto Che sono Burning For You E Don't Fear The Reaper Solo per quel spettacolo di Saturday Night Live Con Don't Fear The Reaper Si meritano una A E facevano questo rock Un po' psichedelico Un po' Lievemente progressivo Cioè proprio Qualche nota di sinfonia Però niente male Bon Jovi Allora io Mi piaceva un sacco Bon Jovi Quando ero giovane Poi quando sono cresciuto Ecco un po' L'ho abbandonato Però Allora c'è da dire che Ha fatto le sue hit Diciamo Air metal Rock Rock Alla fine Classic rock Non sono male Cioè le canzoni Bon Jovi Non sono male Non sono dei capolavori assoluti Ma Ne ha fatte tante E ottime Tra cui Bed of Roses Tutte quelle lì No Always I Boston Beh allora More than a feeling Da sola Vale una B Avranno fatto qualcosa Altro di decente Certamente Adesso non mi ricordo Come si chiama l'altra canzone C'è un'altra molto bella Sempre in questo album qua Che è More than a feeling Bruce Prinstein È un po' strano Perché È l'artista americano Per eccellenza Eppure in Italia God di un certo Valore Di una certa nomea A me piace Mi piace anche Una delle ultime canzoni Che ha fatto Che è The Miracle Che è il singolo Dell'anno scorso Insomma Che altro dire The River Born in the USA È uno dei miei album preferiti L'ho già detto Da qualche altra parte Bob Seger Sinceramente Non conosco nessuna canzone Come Iniziamo a togliere questi Chicago Cioè ho presente Ma Ok Black Sabbath L'avevamo già visti l'altra volta L'avevamo messi Qui per ovvi motivi Credence Killer Water Revival Mi rimandano indietro negli anni 60 Non so I Credence Non so cosa ne pensate Ma Sono proprio Per me A parte tutte le canzoni Tutti i film del Vietnam Sul Vietnam Ma A me piacciono Non so Non so voi Cream Prima band Di Eric Clapton Che dopo vedremo Da qualche altra parte Credo Però qua Lo mettiamo insieme Allora Forse Cream da soli No ma In clean da soli Sono in verità Indispensabili Per la storia musicale Anni 60 Si Eric Clapton Ovviamente Per tutto quello che c'è Venuto dopo Per tutta quella storia Incredibile con George Harrison Che ha avuto Con la ex moglie Con la ex moglie di George Harrison Eccetera eccetera Crosby still Nasce Young Allora Neil Young da solo Mi piace Tantissimo E insieme A A questi altri Loschi figuri Facevano un folk rock Certamente Degnuno di 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 ascolto Tra cui Non so Her house Her house In the middle of the street David Bowie Che cosa gli vuoi dire A David Bowie Assolutamente S-Tier Death Leopard Stesso discorso un po' Di Alice Cooper E di Purple Già li avevamo visti Dire Straits Dire Straits A me piacciono un sacco A un sacco di gente Non piacciono Però Secondo me Mark Knopfler È un chitarrista Super sottovalutato Sto facendo casino Le canzoni sono ottime Anche di Mark Knopfler Da solo Hanno forse Degli arrangiamenti Soprattutto negli anni Settanta Un po' Complessi Però rispecchiano Forse il tempo In cui sono usciti Eagles Come avevamo già visto Nel video Che avevo fatto Sui dischi Indispensabili Proprio per Anche la storia Dei dischi Live Quindi Indispensabile Elton John Elton John Grande Compositore Anche lui I don't want to know What love is Non so cosa c'entrano qui I Fleetwood Grateful Dead Le canzoni di Grateful Mi fanno caccare Ma La parte Visiva Estetica È sempre stata Incredibile Genesis Che cosa Li vuoi dire I guns Li abbiamo già visti L'altra volta Mi stanno un po' Slobale Degli art Sinceramente Non conosco Granché Questo chi è Jimmy Jimi Hendrix Mi sembra evidente Che debba andare qui I Journey Discorso simile A Boston I Journey Ascoltateli Liner Allora I Liner Da me piacciono un sacco Piacciono un sacco Quel genere South Rock Quell'ambientazione Free Bird E poi è un capolavoro assoluto Zeppelin Già L'abbiamo messo qui Sono i Pink Floyd Anche se questo non è ovviamente Il simbolo dei Pink Floyd Police Stesso discorso che vale Per tutti gli altri Police Pezzi di batteria Pazzeschi E Sting da solo Ottima carriera Anche da solo Ma Stuart Copeland Batterista Incredibile Queen Abbiamo già parlato Pink Floyd Mi piacciono Praticamente tutti gli album Mai fatti Da quelli più psichedelici A quelli più progressivi A quelli più strani Degli ultimi anni Rolling Stone Li mettiamo Mettiamoli vicino ai Beatles Che si sono sempre odiati Non è vero Ma la gente voleva che si odiassero Certamente Indispensabile per la storia della musica Mi piace che il fatto che siano ancora vivi Che sappiano suonare da Cristo Ancora adesso I Rush Già belli Abbiamo messi qui Così sono i Super Tramp Ok Super Tramp È un gruppo che da noi Non è stato molto famoso Ma è Certamente Logical Song Ad esempio È un'ottima Ottima canzone Ottimo inno Però Niente di incredibile Più che altro Forse per noi Cioè per la nostra storia L'XX è Tomo Arigato Mister Roboto Ci sono dentro dei gruppi anni 80 random Questi non so chi siano invece Oh finalmente arriviamo al mio preferito I Doors Quanto è incredibile che i Doors abbiano fatto Tutti quei dischi Pazzeschi In non so quanti anni Pochi perché Jim Morrison è morto Ah 27 anni Quindi vuol dire che ha registrato tutto Prima dei 27 anni Intanto questo qua Electrical Light Orchestra I Foreigner Messi vicini Sembra un logo Fatto a posto Doors è incredibile Cioè come hanno fatto in così poco tempo I U li mettiamo in U Ovviamente Andrebbero in S Mi sembra evidente Tom Petty Di Tom Petty ne conosco ben pochi In verità Però Che è Free Falling Ottima canzone Coverata anche da John Mayer Van Allen non mi è mai piaciuto Sinceramente Particolarmente Sicuramente era Indispensabile per il mondo Chitarristico E gli ZZ Top Sono certamente Mi fanno molto ridere da vedere E hanno fatto delle canzoni Blues Rock Così anni Sempre 70-80 Sicuramente divertenti Lagrange Quelli lì insomma Però Ecco da lì a metterli Ai primi posti Mi piace un po' le scelte Che fanno chi crea Questi Questi tier Va bene dai Ci vediamo la prossima volta Ciao 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 Grazie.